E' stata costituita a Napoli l'Associazione Amici di Emilio Fede Fan Club, l'idea è di esponenti del mondo della società civile e del giornalismo per valorizzare l'esperienza dell'ex direttore del Tg1, di studio aperto e del Tg4, che ha scelto Napoli come sua città adottiva, dove vive dieci giorni al mese circondato dall'affetto di colleghi, personaggi del mondo della cultura e dello sport. Il presidente e il direttore del Roma Antonio Sasso, tra i componenti l'ex presidente del Napoli Calcio Corrado Ferlaino e Roberta Cassol, i medici Pippo Papaccioli e Michele Romano, i giornalisti Mimmo Falco e Gianfranco Coppola. Tanti amici che ho trovato qui che mi hanno restituito quasi una seconda vita. Mi piace Napoli, credo di essere riamato, ma mi piace questa Napoli nella semplicità, non sono la persona che va cercando. Qui cerchiamo una iniziativa che non è per lucro, non è politica, non è di partito, soltanto un modo di vivere nella semplicità come i tifosi di questo grande Napoli che devono tutto a lui.